L'Assemblea siciliana ha respinto la mozione di censura firmata dalle opposizioni di centro-sinistra all'assessore alla salute Ruggero Razza, al quale veniva contestata la gestione della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Contro la censura hanno votato 36 deputati, 25 i favorevoli. Ruggero Razza nel corso del dibattito si è difeso. Sul tracciamento ci sono difficoltà, non lo nascondo, come ci sono in altre regioni. Devono essere affrontate e risolte. Abbiamo agito aumentando i servizi nelle aree metropolitane, aumentando le USCA rispetto agli standard ministeriali. Poteva essere più forte il legame con i medici di medicina generale, certo. In Sicilia i pronto soccorso hanno avuto giorni duri. Sono migliaia i sanitari che stanno facendo sforzi enormi. A loro va il mio riconoscimento. Non ho, ha detto, alcuna presunzione nel dire che non sono stati commessi errori e che non ne potremo compiere nell'immediato futuro, ma che sia responsabilità del Governo la classificazione della Regione. Lo smentiscono i dati. Il rapporto col Ministro Speranza è stato costante e sempre leale.